Ok, in testa abbiamo un caschetto dei pompieri, lo so molto bene, comunque benvenuti ragazzi in questo nuovo video che non so come chiamarlo, in realtà lo so come chiamare perché siamo 500 TNT, 500.000 TNT contro una casa che va a fuoco perché voi non lo sapete ma ragazzi se noi premeremo questo tastino qua rosso, viola, qualcosa, perché continua a cambiare colore, questa casa inizia a prendere fuoco e noi dovremo cercare di scappare entro 5-10 minuti, non lo so nemmeno io perché fuori ci sono una ordata di TNT enormi che vorrebbero spiegare da un momento all'altro, anzi ve le faccio vedere anche se qua c'è scritto che do not change the game mode, ma io lo faccio solo per voi per informazione perché qua fuori ci sono giusto un pochino di TNT come vedete e per un pochino intendo 500.000 TNT, sono davvero una fracca raga come si direbbe, però ragazzi se volete un altro video di questo stile, di questo tipo, ritorno alle 500.000 TNT versus, lasciate un bel like, soprattutto siamo in game mode 2 non 0, un bel like, cerchiamo di superare i 3000 like ragazzi per questo nuovo video mi raccomando e io direi cosa facciamo, premiamo il tastino rosso, lo premo solo se vi siete iscritti, se siete nuovi e avete lasciato like, mi raccomando Ah, vi siete iscritti, ok molto bene, allora, premiamo questo tastino rosso, push 3, 2, 1, ok, si starta via, la lava is coming, allora non mi sono spoilerato tutta quanta la mappa, però so che la lava sta arrivando con molta calma, quindi noi dobbiamo scappare da questa casa e dovremmo avere anche il tempo a lato, non lo sto tenendo, saranno passati 10 secondi, non lo so, devo prendere il timer io, allora fermi tutti, che io ricordo c'era comunque un tempo limite, cronometro, avvio, allora si parte, nascondiamoci, non è nascondersi, è scappare da qualche lato, oddio la mappa sta laggando visibilmente, credo per colpa di tutte le tenette della lava che c'è fuori, però calma, perché qua ci indica di andare sempre dritti, Allora, tiriamo dritti di qua, ok, però, rega, vi giuro, sta laggando una fracca, facciamo così, abbassiamo tutto quanto, allora, tiriamo dritti sempre verso di qua, di qua non vedo ancora nulla, no, rega, lagga tantissimo, mi sta per colpa delle tenette, oh mio dio, qua c'è una torcia, credo che non serva, però tiriamo dritti sempre da questo lato, di qua, ok, Marco, ti prego, esci da sta casa, perché ho troppo un casino, Allora, qua ci sono comunque delle frecce che indicano sempre dove andare, ma io non sono sicuro che sia la direzione giusta, e sta iniziando piano piano a laggare tutto, ma quante porte sono, sono troppe porte, eh, non è questa, oddio, lag, no, 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 rega, stiamo iniziando a laggare tantissimo, non è questa, non è questa, non è questa, è questa, è questa, è questa, via, giù, 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 non è di qua, è di qua, di qua c'è una freccia, di qua c'è una freccia, no, secure room 4, no, Rega, il lag è forte in noi, è molto forte, calma, secure room 3, no, aiuto, lag, non farmi del male, di qua, c'era una scalinata segreta, ok, piottiamo di qua, rega, no, di qua invece, se andiamo di dietro di qua, secondo me è giusta, no, rega, ci ha solo fatto allungare un attimo la strada, io con lag, rega, praticamente, non riesco a capire se sto andando giusto o meno, no, rega, ci stanno, ci stanno, ma sbaglio o l'ho già vista questa stanza? Oh, di qua si scende ancora, credo si debba scendere, credo si, oddio, ma ci ha riportato davvero in prima? No, raga, oddio, ma cosa sono ste cose? Non lo so nemmeno io, ragazzi, vi giuro, non sto capendo assolutamente nulla tra lag e... Scale, 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 si scende, credo che siamo usciti o siamo morti, non credo che questa fosse la via giusta della morte, eh, morte? Vorrei morire, slash, non riusciamo a morire, secondo me, quindi chigliamoci, no, rega, sto laggando... Oh, mio Dio, mi sa che il mondo è talmente tanto pesante... Cosa cazzo è successo? No, sono già sposati di TNT! Oddio, ecco perché laggava! C'è stato un piccolo problema di... C'è stato un piccolo problema, mi sa che erano 5 minuti il tempo limite per uscire dalla casa e mi sa che non è finita tanto, tanto bene, secondo me, perché la casa è già esplosa, non ce l'abbiamo fatta! Oddio, ma c'era un posto per scappare? Secondo me, rega, ce l'abbiamo fatta, invece, sapete? A meno che l'uscita era di qua... Eh, Marco, scappa! Facciamo una cosa, scappiamo dalle TNT, impertarete che stanno esplodendo, però io volevo scappare, diamine, ecco perché è iniziato a laggare talmente tanto, è perché non abbiamo fatto in tempo scappare! Ora forse capisco perché laggava anche, è perché comunque c'era tutta quanta lava che cadeva sui blocchi che prendevano fuoco della lana, di legno e tutto quanto, e in più c'erano le TNT che hanno fatto un devasto immenso per questa casa! Però credo che, secondo me, abbiamo trovato veramente il modo per scappare, a meno che ci siano altre stanze, ma non credo! Però non ce l'abbiamo fatta in 5 minuti, perché abbiamo notato il lag dopo un bel po', ecco, e non ci è andata per niente bene, mi sa! No, rega, era il lato giusto, perché vedete che c'è una scainata? Abbiamo azzeccato, rega, perché era l'unico lato col buco qua sotto! Guardate che qua non c'è, oddio, qua c'è, ma credo che sia per colpa di un'esplosione, e infatti qua è esploso qualcosa! Quindi, ce l'abbiamo fatta, però diciamo che non è il tempo limite assolutamente, però qua sta prendendo tutto quanto fuoco! E voglio dare un attimo d'occhio anche dentro la casa! Beh, credo di... non ce l'abbiamo fatta purtroppo, però abbiamo fatto un ottimo lavoro uscendo, e questa è la cosa importante! Comunque siamo resistiti dentro senza morire alle esplosioni! Oddio, eh, ecco perché si chiama Burning House! Comunque ragazzi, spero che questo video qua vi sia piaciuto, invito a lasciare un bel like, un bel commento, perché siamo riusciti a scappare dalla casa, però non nel tempo limite delle 500.000 esplosioni! Mi raccomando, se volete un altro video di questo genere, scrivetemi questo magari su che mappa lo volete, magari su una mappa solo di ghiaccio, dove non devi rimanere soffocato o altre queste cose, però purtroppo questa casettina qua sta prendendo fuoco, quindi dobbiamo salutarla! Scrivete hashtag rip nei commenti, se rivolete un altro video di questo tipo, mi raccomando, spaccate il tasto dei like, perché è molto importante! Devo smettere di fare spodere tutte quante le case con 500.000 tianetti queste cose! Questa volta non c'entra nulla, Lino! Ok, quindi, questo, si è messo a fare sfide senza che io gli dicessi nulla? Non va bene, non va bene, devo parlare subito con Maya, subitissimo anche. Maya! Io ma come glielo spiego che sono dalla parte di Marco? Che palle, perché mettono sempre me in mezzo? Ah, è vero, forse voi non mi conoscete. Ehm... È il momento buono di fare gli scherzetti quelli veri. Avrà una punizione devastante tra un po'. Si deve preparare, non si deve permettere di fare le sfide senza dirmi nulla. Gli farò sparire tutto quanto. Gente, non scappate, perché devo dirvi una cosa davvero tanto, tanto importante. Domani, alle 8, uscirà il nascondino challenge con i Kerenci, Tiar e Tech. Mi raccomando, ricordatevi di mettere la sveglia, perché sarà un video, vi giuro, da far collassare dai risultati tutti quanti, perché è veramente clamoroso. L'abbiamo registrato un po' di tempo fa e fa davvero morire dal ride. Non perdetevi perché è il continuo della serie del nascondino challenge sulla mia vanilla, quindi verrà fuori una bomba. Una cosa tanto importante è anche attivare le campanelline. Tanti mi stanno dicendo che non fidano i video, ed è una cosa vera. Sto parlando con alcune persone di Google. Ieri abbiamo avuto un sacco di problemi tutti quanti. E in più vi consiglio di controllare se nelle impostazioni delle notifiche del vostro telefono, non proprio di YouTube, anche proprio di YouTube, avete appunto le notifiche attive di YouTube. Dall'in poi riattivate o attivate la campanellina con tutte quante le spunte. Mi raccomando, è una cosa davvero tanto, ma tanto importante. Un'altra cosa che vi allego comunque dopo questo video qui, che spero che vi sia piaciuto, nel caso vi invito comunque a lasciare un mi piace. E scrivete hashtag bottiglia fino a questo punto, gli scrivete qua sotto nei commenti che video volete sulla Nintendo Switch con il gemello, ma anche non per forza col gemello. Perché ho visto che è una cosa che vi piace davvero tanto, ma tanto, tanto, tanto. Ho davvero un sacco di idee da portare in compagnia appunto del gemello, perché è una cosa che vi è piaciuta davvero un sacco. Potrei chiarire comunque una serie, una cosa molto importante rispetto a questo personaggio e a questa serie di cose. Quindi, mi raccomando, è una serie di cose che vi chiedo di fare e ci tengo davvero un sacco che siete arrivati fino a questo punto. Quindi, mi raccomando, con l'hashtag bottiglia qua sotto nei commenti, fatemi sapere se siete arrivati seriamente fino a questo punto. E nulla, lasciate un like e un commento, iscrivetevi al canale se ancora avete fatto, manca poco ai 100.000 iscritti e a tutti quanti gli speciali che dobbiamo fare. Quindi, mi raccomando, rimaniamo uniti tutti quanti, perché è una cosa tanto, ma tanto bella. Ragazzi, da Marche è tutto, mi raccomando, un bel like, un bel commento, iscrivetevi se ancora avete fatto, spero che vi siete arrivati fino a questo punto, perché ci tengo davvero un sacco. Bella. Ciao. 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 Ciao.